E qui anche oggi l'onorevole Ella Bucalo, è bello avere come presenza anche una donna. Lei ha già commentato di un sogno che vuol far nascere un portale, ma ci spieghi meglio e ci dica soprattutto perché sogno. E allora, intanto io la ringrazio per l'affettuosità nei confronti di tutte le donne. Sono onorata di appartenere a Fratelli d'Italia che è il Presidente, lo sappiamo tutti, è una donna, è una grande donna. Un sogno, anzi voglio dire una cosa. Appena sono uscito ho ricevuto un messaggino da un gruppo di famiglie e mi hanno detto come è andata, come è andata, perché è veramente un sogno. E' un sogno perché queste famiglie ogni giorno si ritrovano dei muri. Il papà che deve prendersi un permesso per andare a fare delle file estenuanti all'Inps per avere dei dettagli, per richiedere informazioni o andare ai vari uffici dell'Asl per chiedere dei documenti e non si può continuare. Lei infatti ha parlato di muro da superare, soprattutto assenza di servizi inadeguati. Inadeguati perché? Perché non c'è conoscenza. Queste famiglie, spesso e volentieri, non sanno neanche quali sono i loro diritti, cosa lo Stato ha dato in questi anni a disposizione. E né tantomeno anche il CAF riescono subito, prontamente ad avere conoscenza. Quindi è un sogno perché? Perché questo portale riesce ad aggregare tutto. Chi leggifera prontamente mette in questo portale sia le leggi, sia le circolari, tutto quello che hanno di diritto queste famiglie. Quindi poi viene direttamente indirizzato alle regioni, indirizzato ai comuni e indirizzato quindi alle famiglie che possono finalmente visualizzarlo immediatamente e anche ai GAF. Quindi una conoscenza più facilitata. Logico, proprio per il concetto che abbiamo della trasparenza. Si parla tanto di trasparenza, ma è questa la trasparenza. Cioè dare la possibilità subito, prontamente alle famiglie e anche ai vari associazioni che li seguono di avere prontamente quello che loro hanno diritto. E non solo, anche un altro punto è un portale che vuole essere da esempio. Perché? Perché ho ribatito nel mio intervento, deve rispondere a quelli che sono i principi imposti dalla legge stanca. Lei vede, non c'è nessun portale né dell'Inps, né dell'Asl, né in qualunque altro... Nel 2018. Nel 2018 che risponda a questi requisiti. Cioè una persona che ha una disabilità entra in un portale. Non voglio dire altro. In quello dell'Inps si perde nei meandri di questo portale. Intanto non risponde a quelli che sono i principi, non si devono usare particolari colori accesi perché ci sono, sappiamo, alcuni soggetti che hanno difficoltà con i colori accesi. Vede lei colori brillanti, bellissimi, ma che non servono a questi soggetti purtroppo. Ma perché sogno? Cos'è che manca? Eh, manca proprio la possibilità che un padre, che una madre da casa stessa non prenda un permesso, non vada a fare delle file estenuanti e si senta comunque sempre un numero. Ma lei ha parlato di finanziamenti che mancano per rendere realizzabile? Logico, perché? Perché creare questo portale è necessariamente... Io sono assistita da persone competenti in materia, quindi in materia di informatica e quindi abbiamo IOSA, persone che hanno questa competenza. Ma quello che manca poi sono i finanziamenti, a tenere poi in vita e quindi essere efficiente il portale. E lì bisogna vedere dove è possibile trovare i soldi giusti e quindi per tenere poi l'efficienza di questo portale nel tempo. Giusto per concludere, dopo questo convegno, quale il suo auspicio per i pazienti con specifica fragilità che poi ci potremmo rientrare ipoteticamente tutti, sperando mai? Allora, il mio augurio che rivolgo in primis a me stessa. Io ho una mamma affetta di Alzheimer e quindi vivo sulla mia pelle ogni giorno. Cosa vuol dire combattere con una disabilità? Mi auguro che tutte queste famiglie non sono un numero che non restino un grito silenzioso ma che si dia quantomeno, che abbiano la certezza che lo Stato è accanto che lo Stato dia una mano. Va bene onorevole, la ringrazio gentilissima e le auguro un buon lavoro. La ringrazio. Grazie.